Musica Se vuoi acquistare Fifa Points a pressi davvero davvero bassi Passa da Fifa Points Market, pagina italiana, sicura e disco ban minimo E utilizzando il codice Lazza avrai 5% di sconto sull'acquisto Link in descrizione Wow ragazzi sono Harry Lazza e bentornati in questo nuovo mio canale Oggi ragazzi siamo qui con la nuova Draft Challenge Una nuova Draft Challenge come quelle che vi piacciono a voi Ovvero dove vado a giocare anche a calcio in real life Perché infatti ragazzi come avete visto io siamo qui con la Continental Free Kick Draft Challenge Questa sfida ragazzi consiste nel andare come nella Free Kick Challenge normale Ci sono 4 posizioni all'interno della porta E queste 4 posizioni corrispondono ai... Io ho messo 4 continenti, so che sono 6 i continenti Però io ho messo i 4, sono quelli là principali Quelli che comunque riesco ad andare a trovare nel Draft E appunto mano a mano che vado a centrare questi continenti Dovrò scelere il giocatore appartenente a quel continente Quindi ragazzi su con i pollizioni arriviamo a 300 likes per questa Challenge Se non avete ancora capito come funziona Comunque tra poco, tra pochissimo lo vedrete E nulla, andiamo dentro con la Challenge In descrizione ragazzi trovate anche tutti i canali dell'Auricchio Crew Quindi accediamo con i nostri 15.000 credit Vediamo allora il modulo, ce lo scegliamo noi Almeno quello E devo dire che fa cagare Anzi c'è questo qua, il 4-3-2-1 Primo tiro signori, primo tiro È venuto fuori l'Europa Quindi Europa c'è solo Ronaldo e Shaqiri Quindi devo andarmi a prendere Ronaldo Secondo tiro Partiamo dal portiere Vediamo, vediamo Portiere Ok, ce ne sono uno, due Tre portieri europei E direi di andare a prendere proprio Horn Terzo tiro Ancora Europa Ovviamente io sono destro Quindi tendo a piazzarla lì E abbiamo questo spagnolo Questo portoghese E questo olandese E andiamo a prenderci Tono Ok, ho cambiato mira Africa, Africa Ah, non ce ne sono Non ce ne sono dell'Africa Quindi Vado con Godin 90 Prossimo tiro Abbiamo America America Questa volta abbiamo O Musacchio Oppure Garai Ma direi Con Musacchio Sesto tiro Abbiamo ancora America America E abbiamo Zuniga L'unico Altro tiro Abbiamo Europa E questa volta di Europa Abbiamo questo Parejo Tiro successivo Ancora Europa E abbiamo Claudio Marchese Oppure Verratti Oswain Steiger Direi di andare Con un bel Marchese 89 Nono tiro America Abbiamo America L'unico americano Qui Dal continente americano È Vidal Altro tiro Porco 2 America E vai Lionel Messi Lionel Messi Americano Quindi Signor Abbiamo scolato con Lionel Messi E andiamo con il prossimo Eh Prossimo abbiamo preso l'Africa Vediamo se c'è qualcuno di africano No Niente Oggi L'Africa Non è andata fuori Quindi Direi di andare con Direi Jamie Vardy Ora ragazzi Completiamo Automaticamente La rosa E si vediamo cosa Viene fuori Vediamo Uh Daniel Storti Bail De Gea Buona Buona Buoni giocatori Ottimi De Gea Daniel Storti Ok ragazzi Metto a posto La rosa Ci vediamo tra Poi 5 secondi Dunque signori Questa qui è il massimo Che è uscito Si che sono riuscito a fare Magari facendo così Nonia Anche così No niente Mi ha messo anche in ordine Per comunque Per alzare la valutazione C'è uscito un africano Nella Bifuma Che praticamente Ho fatto triangolo Quindi con la cosa automatica E andiamo giocarci Una partita Ok ragazzi La squadra Porca puttana 191 draft 191 Buona Buona squadra Ho failato male Perché non avevo accesa la cam No Modric Occhio Occhio Messi Grande De Gea Ma che cazzo fa quello là Tonno Tonno Vai Messi Si Messi è buona Vai Bifuma Saltalo Bifuma No Che cazzo hai sbagliato Tania Se devi tenere col CR7 Occhi Passaggio indietro per Rakitic Dio santo Lo sapevo io 1-0 Parte Messi Con il mancino Vabbè se l'ha messo là Che cazzo posso fare Però c'è Bail Vai Bail tira Bail 1-1 Betlemme Dai e dai Tunze tunze No no Si che culo Come cazzo l'ha presa Musacchio Grandissimo Musacchio Vai Bifuma Dai che te lo fuma Dai che te lo fuma Bifuma Bifuma La bestia vera 43esimo 2-1 Betlemme Come back Dunque ragazzi Finisce qui Il primo tempo 2-1 Per il Betlemme Tegnero lì Grande Bail Se ne va con una finta Vai Bail 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 No Mamma mia che lancio Sui P CR7 Che lo salta con il tacco CR7 CR7 CR No Tiro Messi Messi Da un giocatore all'altro Mamma mia signori Cosa ho fatto CR7 Però non puoi sbagliare Cioè Signor CR7 Mi scusi Mi consenta Dunque ragazzi Finisce qui la partita Finisce qui 3-1 Abbiamo dominato Praticamente Quindi ragazzi Questo video Finisce qui Spero vi sia Piaciuto che vi Lasciate un bel Ragazzi Arriviamo a 300 Nikes Se volete vedere Nuovissima Challenge Del draft Basta In iscrizione Non vi mostrerete Tutti i canali Della Ulrichio Inoltre Troverete Tutti i miei social Iscrivete Nel canale Solo che ho fatto Quindi ragazzi Dicui Allerete Tutto Bella